Il Covid non ha dissuaso, anzi ha spronato 820 aspiranti medici al test d'ingresso per il corso di laurea in medicina e odonto e atria dell'università d'annunzio. Green pass alla mano, obbligatorio, gli studenti hanno atteso di entrare seguendo misure di sicurezza anti-Covid accurate e proprio la pandemia ha spinto non pochi studenti a volere intraprendere questa carriera per aiutare gli altri, ci hanno detto. Il professor Liborio Stuppia, presidente della scuola di medicina, parla della prova di oggi tra difficoltà superate e tanta voglia di andare avanti. Sì, quest'anno in particolare la gestione delle prove di ammissione è fortemente condizionata da necessità di osservare in maniera rigorosa tutte le misure di sicurezza, soprattutto il controllo del green pass, quindi abbiamo dovuto fare un'ulteriore organizzazione rispetto agli altri anni che preveda quindi anche questa fase di verifica. Hanno fatto domanda 820, quindi più o meno come l'anno scorso. I posti a disposizione sono 216 per medicina, 40 per odontoiatria, quindi diciamo che se uno studente si impegna e fa una buona prova le possibilità di entrare non sono basse. Quanto è stato difficile organizzare il tutto quest'anno? Molto più difficile degli altri anni, nello stesso tempo anche perché ci sono arrivate indicazioni ministeriali all'ultimo momento e in alcuni casi anche abbastanza difficili da interpretare, però credo che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo informato fino all'altro ieri gli studenti personalmente uno per uno su quello che dovevano fare, per cui io confido sul fatto che verranno tutti muniti di green pass o di certificazione valida e che quindi possano partecipare alle prove senza problemi. Perché hai scelto questa facoltà? Sono tante le motivazioni, in primis il sogno di una bambina e poi perché ho propensione per aiutare gli altri, l'ambito scientifico mi piace molto, quindi vorrei fare qualcosa concretamente per le persone. Com'è studiare al tempo del Covid? Difficile, speriamo che ne stiamo per uscire e se è un futuro potremmo dare una mano in situazioni del genere, sarebbe bellissimo. Già sai la specializzazione oppure ancora presto? Io, a me piacerebbe fare neurochirurgia. Quindi già sai cosa fare? Sì, se si rientra sì, sempre. Al tempo del Covid com'è studiare e fare un esame di questo tipo? È un po' complesso, un po' complesso perché negli anni passati magari le persone potevano anche ambientarsi all'interno dell'università e andando a studiare alla biblioteca. Adesso non è possibile. Cosa vorresti fare? Quale specializzazione? Ematologia. Ematologia per un'esperienza personale. Speriamo bene, abbiamo messo tutto e durante il Covid ovviamente non è stata facile concentrarci anche se avevamo tempo durante il lockdown perché stavamo a casa ma non è proprio così come tutti la pensano, ecco non è sempre facile. No, no, ho studiato, mi sono preparata quindi mi sento pronta però un po' di ansia c'è sempre. Perché hai scelto questa facoltà? Allora io ho scelto questa facoltà perché proprio il medico è diventare il mio sogno, in particolare lo psichiatra diciamo, sono sempre stata affascinata da questa facoltà e speriamo insomma, speriamo che quest'anno sia l'anno giusto e in bocca al lupo a tutti quanti quelli che lo proveranno. Grazie. Grazie.